Salve, sono Giorgio Primo dello staff Inex Hardware, siamo qui anche quest'anno con la selezione italiana della GOC di Gigabiat 2010. Quest'anno è un po' diversa rispetto all'anno scorso, non abbiamo dei team ma dei clocker singoli, abbiamo otto concorrenti che si stanno cimentando in tre benchmark principalmente incentrate sulla CPU, quindi abbiamo SuperP32M, V-PRIME32 e Exus P-Fast. I punteggi vengono sviluppati rispetto all'incremento su uno score base che è la configurazione di default e il concetto è sempre lo stesso, cioè fare lo score migliore, spingere la scheda madre e le CPU al limite attraverso l'utilizzo di raffreddamento estremo, attraverso azoto liquido. In questo momento in testa vediamo che c'è Kangas, Delex e Canna 1988, chi vincerà da questa selezione andrà a fare poi la finale europea a Mallorca che si terrà dal 15 al 17 di luglio e da lì poi si passerà a Taiwan i primi cinque classificati. Posso dire che sono contento che anche quest'anno ci hanno dato la possibilità di organizzare questo evento dimostrando che anche in Italia la community degli overclocker sta crescendo sempre di più e speriamo che continui a crescere.